Conto alla rovescia agli sgoccioli per il Palace Cavolini. Fra dieci giorni si inaugura il nuovo auditorium fra via Marconi e via dei Partigiani dove si sta lavorando giorno, notte e weekend per portare a compimento il cantiere dell'opera pubblica cittadina più complessa e controversa degli ultimi anni. Una rigenerazione dell'ex hangar clamorosamente lievitata sia nelle tempistiche che nei costi previsti passati dai 3 milioni e 6 del 2018 ai 10 milioni di oggi. L'inaugurazione annunciata da tempo per il 29 febbraio, giorno del complanno di Giochino Rossini, sarà il terzo grande momento di Pesaro Capitale della Cultura 2024 dopo l'ouverture con Mattarella e la prossima accensione della biosfera calendarizzata per il 24 febbraio. Il Palace Cavolini verrà inaugurato seppur in forma ancora lontana dal suo completo utilizzo. Ad oggi infatti mancano finiture esterne e un profondo intervento su via Le Marconi. L'utilizzo completo avverrà solo ad agosto quando l'auditorium diventerà una delle location del Rossini Opera Festival adempiendo appieno la sua destinazione di luogo polifunzionale per spettacoli, sport e convegnistica. Intanto giovedì 29 febbraio si tornerà a valcare la soglia del luogo della memoria del grande basket pesarese con uno spettacolo di effetti audio-video che segnerà l'inizio di una nuova vita di un luogo simbolo della città.